Dopo oltre tre ore di riunione, il club ha diffuso una nota nella quale si evidenzia come per tentare di preservare l'integrità del patrimonio sociale, la salvaguardia dei valori aziendali e del ceto creditorio e dato mandato all'amministratore unico Francesco Vinella di dare il via all'iter che porterà al fallimento. Il dirigente dovrà adottare una formula che consenta di cedere il titolo sportivo ad una nuova proprietà che a sua volta entro il 30 giugno potrà ottemperare alle pratiche di iscrizione al nuovo campionato. I prossimi passi del Bari terranno conto dell'esperienza del fallimento dell'Ascoli avvenuto a stagione in corso. L'unica strada è quella del fallimento, ha detto Vinella alla fine dell'Assemblea, alla quale hanno preso parte anche Antonio Matarrese per la famiglia che rappresenta il 90% delle quote sociali, Enrico Scoditti della Salvatore Matarrese S.P.A. e Oreste Fornarelli del Collegio Sindacale. La riunione presidiata da tre camionette delle forze dell'ordine ha registrato il disimpegno della proprietà. Il socio di maggioranza, la Salvatore Matarrese S.P.A., è stato detto, ha comunicato l'impossibilità di ripianare le perdite e da fornire nuova finanza, avendo lo scorso 10 febbraio depositato presso il Tribunale di Bari istanza di concessione del termine per il deposito della domanda di concordato preventivo, ovvero di accordo di ristrutturazione dei debiti. Escluso un intervento economico da parte della famiglia Matarrese, è rimasta solo la possibilità di rivolgersi al Tribunale fallimentare. Vinella ha presentato la situazione di crisi economica, arrivando alla conclusione che in carenza di supporto non ricorrono i presupposti per accedere ad una procedura alternativa. La conclusione dell'Assemblea segna l'inizio di una vera corsa contro il tempo per aprire e completare la procedura fallimentare, provando a mettere all'asta il titolo sportivo in tempo, perché una nuova compagine societaria possa ottemperare le scadenze previste dalla FIGC per l'iscrizione alla Serie B. Fuori dal San Nicola, dove si svolgeva l'Assemblea, c'erano solo una decina di tifosi. Sul web l'auspicio di molti sostenitori affinché si possa, con una nuova presidenza, aprire un nuovo ciclo.